buongiorno alla gente, come andiamo? tutto bene? piaciute le pernacchie? stamattina andiamo a fare una revisione all'anno perchè ero mica venduto ancora si ogni tanto la revisione la devi fare se no ti mettono l'adesivo cosa fai? ciao patatone mamma come sei bello ciao cagnoni rullo i tamburi mo speriamo ben che la pasta la revisione al nonno se no visione passata raggiscioli nasa a prove beh vai non che adesso sei di nuovo pronto a mazzinare chiometri beh mo ciao a tutti raggiscioli un bacione grande da camperjohn ciao 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 ciao